Come riportato dalla pagina Facebook della Nissa, il presidente biancoscudato Sergio Iacona è stato ricoverato all'ospedale Sant'Elia, a seguito di un malore. L'avvocato nisseno, mercoledì sera, si è presentato al pronto soccorso del nosocomio comunale ed è stato sottoposto ad accertamenti. Al termine della degenza in osservazione legata alle necessità di svolgere ulteriori esami e di valutare l'evoluzione clinica, è stato deciso il ricovero. Le condizioni del presidente della Nissa sono stabili e tra alcuni giorni verrà dimesso dall'ospedale. La società si stringe attorno al suo presidente formulando i migliori auguri di una prontissima guarigione.